A Francoforte, a Francoforte, la parola d'ordine di questi giorni. Ieri si è aperta la fiera internazionale del libro di Francoforte, quella che rimane ed è da sempre l'unica reale fiera internazionale del libro dove trovi davvero un po' tutti gli editori di tutto il mondo. Ma lo sapete che cosa fanno i colleghi giornalisti italiani quando vanno alla fiera internazionale del libro di Francoforte? Ci vanno semplicemente per incontrare delle persone che potrebbero incontrare a Milano, a Torino, a Roma con appuntamenti preordinati senza avere il minimo della curiosità perché avere curiosità alla fiera internazionale del libro di Francoforte per un giornalista vuol dire camminare, 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 percorrere chilometri, davvero chilometri. Però così, facendo così ci si immerge in tutto il resto del mondo e si fanno spesso, molto spesso, tante curiose e preziose scoperte. Però la stampa culturale italiana a che cosa si limita? Si limita a passeggiare in su e in giù nel segmento piccolo, devo dire, dove ci sono gli editori italiani, gli stessi, che potrebbe incontrare in Italia. Questa è la fiera internazionale del libro di Francoforte vista dai giornalisti italiani. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.